Mi trovo a Cicerale, provincia di Salerno, in occasione di un importantissimo evento, dal titolo Viva la Terra, programma per il lancio di un progetto per la rivalutazione del sistema agricolo. Io innanzitutto vi chiederei un forte applauso per questa iniziativa, perché talusso a questo territorio di Cilento importanti sono le novità. Il Cilento ha grandi possibilità di espansione sui mercati italiano ed internazionali. Parliamo di mercati, soprattutto quelli extraeuropei, quindi la Svizzera che oggi è un importatore primario dei prodotti agricoli italiani, parliamo della Germania e parliamo dei paesi extraeuropei come gli Stati Uniti e la Cina. Il Cilento può dire la sua in questo percorso, soprattutto con i prodotti di qualità, quindi con le eccellenze più qualità e meno quantità. Non serve produrre grandi numeri perché noi dobbiamo venderli a prezzi assolutamente remunerativi per l'agricoltore e per chi trasforma. Il progetto di questa sera è un progetto di largo respiro che coinvolge operatori internazionali che vengono a investire sul nostro territorio e quindi poi diventano i primi promotori dei prodotti che i nostri condadini, i nostri agricoltori traggono dalla terra. Ci credo che davvero tanto in un'iniziativa del genere, perché è un po' il sistema che hanno utilizzato tutti i territori fortemente evocati delle produzioni agricole, parlo del Piemonte, parlo del Veneto, la stessa Toscana, ma i vini dell'Etna, fino a 20 anni fa i vini dell'Etna non esistevano. Appena sono arrivati gli operatori internazionali hanno promosso i brand nei loro rispettivi paesi. Ebbene oggi un litro di vino dell'Etna, una bottiglia di vino dell'Etna, viene venduta a 20 euro almeno, quindi basta copiare le iniziative di successo che hanno realizzato gli altri e sicuramente, se ben adattate alle nostre caratteristiche, alle nostre condizioni, sicuramente daranno successo anche da noi. Assolutamente sì, è una cosa a cui tengo molto perché il dottor Antelmo, un mio amico che conosco da oltre 20 anni, mi ha illustrato perfettamente quello che lui ha in mente di fare. Ritengo che sia una cosa da portare assolutamente avanti per valorizzare un prodotto quale è il Fico del Cilento, un prodotto che interessa chiaramente le mie lavorazioni e per questo ho aderito con grande entusiasmo e spero che la cosa abbia dei risvolti positivi per quanto riguarda la coltura del Fico sul territorio cilentano. Allora, questa sera è una serata importante perché finalmente qualcuno inizia a pensare che la terra è una risorsa, è una forza, quindi io mi auguro che sia lo stimolo, l'input affinché i giovani tornano alla terra e recuperano ciò che stiamo perdendo perché gli anziani purtroppo non sono più in grado di lavorare e oggi se i nostri genitori sfamavano le loro famiglie con un pezzo di terra, oggi che possiamo meccanizzare magari un po' meno, un po' più, dipende da come sono scoscesi i terreni, sicuramente possiamo portare avanti le nostre storie, le nostre tradizioni che fanno parte del nostro patrimonio. Esatto, beh, ovviamente il discorso della rete, fare rete è il futuro appunto, prima si facevano le cooperative, adesso diciamo è un concetto più moderno dove appunto attraverso la rete si possono favorire anche quelle piccole aziende che non hanno, che ne so, le attrezzature oppure la mano d'opera per sostenerla soprattutto, soprattutto si fa per sostenere la mano d'opera e per avere a disposizione altre attrezzature che magari un'azienda, una piccola impresa non dispone, quindi insieme poi ovviamente si allargano i canali di comunicazione, si allargano i contatti e diciamo che si favoriscono tutte le piccole realtà.